Un incontro molto importante dedicato proprio ai rapporti, all'internazionalizzazione dei rapporti della regione Marche, nello caso specifico però in questo caso con l'Africa. Qual è un bilancio e quali sono anche gli obiettivi di questo incontro? L'evento di oggi rappresenta un appuntamento molto importante perché si concentra su un continente che è considerato di grande interesse e con grande potenzialità per il nostro paese. Basti pensare che il Presidente del Consiglio Matteo Renzi nel 2014 e nel 2015 ha fatto due missioni in questo continente proprio perché questo rappresenta una priorità per il nostro governo. Per le Marche invece che è una regione con grande vocazione imprenditoriale, soprattutto sul manifatturiero, invece in questo mercato ci sono delle criticità, soprattutto se comparato sul resto del mondo. E proprio questo è il senso di questo seminario, quello di riflettere insieme su quelle che possono essere e le strategie da intraprendere. Tra le altre criticità ci sono anche quelle delle scarse risorse a disposizione sul fronte appunto del bilancio regionale, però per fortuna nella programmazione comunitaria 2014-2020 invece per la prima volta ci sono delle risorse dedicate che appunto cercheremo di spendere al meglio anche in questo mercato. Quali sono le forze, le risorse che può mettere in campo non solo economiche ma anche istituzionali che può mettere in campo la regione in questo caso? Beh, dal lato appunto come dicevo prima, quelle delle risorse che sono concentrate da un lato sulla promozione di progetti speciali, dall'altro invece servizi a supporto dell'export delle imprese ma anche ad esempio il finanziamento di figure come quella dell'export manager. Sul fronte istituzionale io credo che sia dovere della regione che oltretutto coordina a livello nazionale la commissione attività produttiva e quello proprio di essere un modello di esempio nell'internazionalizzazione appunto informando le imprese, formandole e anche cercando di semplificare il processo di internazionalizzazione che è comunque un processo molto complesso soprattutto per le nostre piccole e medie imprese.